Oggi parliamo di SAD, una patologia di cui tutte noi donne soffriamo ma molto spesso non lo sappiamo. Dottoressa, ci vuole spiegare cos'è la SAD? SAD dal termine inglese che significa triste, fatalità, ed è appunto un disordine riconosciuto solo negli anni 80 e che riguarda l'umore delle persone ma prevalentemente delle donne. Questa patologia emerge soprattutto nei cambi di stagione prevalentemente in autunno, lì dove la luce comincia a essere minore e dove le giornate si accorciano ed emergono appunto dei sintomi che sono quelli tipici della depressione, quindi ansia, irritabilità, stanchezza, letargia, oppure ipersonia, e problemi ecco che non sappiamo spiegarci che ci sono e che non sappiamo definire. Adesso invece, grazie a questa nuova definizione, sappiamo di cosa si tratta e sempre più medici curanti sono informati di questo malessere stagionale. Spesso queste patologie possono essere determinate da una carenza di magnesio molto importante per le ossa, per la funzionalità muscolare, il sistema nervoso e il battito cardiaco. Un po' tutti noi conosciamo il magnesio, ma cos'è esattamente e dove si trova? Il magnesio è un minerale di cui la crosta terrestre è ricca e si trova soprattutto in alcuni alimenti che noi assumiamo, che dovremmo assumere quotidianamente come piselli o banane, fagioli, cioccolata. Non a caso molte donne chiedono il cioccolato nel periodo premestruale. Lì dove però questi alimenti non fanno parte della nostra dieta, oppure dove la nostra dieta non è ben equilibrata, allora possiamo assumerlo attraverso dell'integratore alimentare. Purtroppo i nostri stili di vita, l'assunzione di farmaci, alcol e caffè, inibiscono l'assorbimento del magnesio e molto spesso diventiamo carenti e ce ne accorgiamo a nostre spese. Quali sono i benefici del magnesio? I benefici del magnesio sono molteplici e vanno appunto dal contenere l'irritabilità, anche ad aiutare la concentrazione durante lo studio e migliorare la performance nello sport. Altri sono ovviamente i vantaggi e si può anche pensare di provare il cloruro di magnesio, che è una forma di magnesio nella sua forma più alta. I sintomi della carenza di magnesio, stress, stanchezza, irritabilità, ansia, depressione, spesso si manifestano in maniera evidente. Alcuni di questi mettono a dura prova il nostro benessere e le nostre giornate. Ma ci dobbiamo preoccupare di questi sintomi? Assolutamente no. Michael Iacco, che è un famoso psicologo americano che si occupa di depressione, ci spiega come la depressione maggiore o unipolare può essere trattata con farmaci e psicoterapia, mentre questo tipo di depressione più lieve può essere invece contenuta e supportata anche con dei sali minerali, come per esempio con il magnesio. Al prossimo episodio